ad osterie ce n'erano un sacco ecco non ho mai capito come facessero a lavorare perché mi pare che fossero da 11 a 13 osterie che c'erano a Bucciago con 1600 abitanti c'erano 13 osterie quindi tolte le donne tolti i bambini c'era un'osteria ogni 10 uomini 10 12 uomini c'era un'osteria alla mattina prima di andare al lavoro e alla sera quando tornavano erano all'osteria erano bene solo il vino perché allora non c'era altro che il vino non è che c'erano i cuori e così e non c'era niente c'era un po di vino e basta era lì tutto e gli uomini lavoravano tutta settimana alla domenica c'era la messa che non obbligava alla mattina sentire la messa e al pomeriggio la dottrina disegno la dottrina la dottrina c'era il parroco che faceva come una e faceva un po di tutto diciamo e lì venivano fuori verso tre uomini forse verso quattro uomini di Gesa finì la dottrina venivano fuori e dopo in noi andate in di Osteria a giocare alla mur o a giocare alla carta lei che se una moglie aveva bisogno di parlare col marito che era dentro in Osteria stava lì in piedi fuori io ho provato più volte a senta ma deve entrare sì gli dico a mio marito se poi ogni fuori cinque minuti che devo dare una risposta esatto è un po particolare e tra lui gli dice va che che la tua donna del fiore ha bisogno di parlare mi ricordo che mia nonna alla domenica mi mandava sempre al pomeriggio alle quattro alle cinque quando soprattutto d'inverno che diventava buio dovevo andare dal pastè e alla domenica mi mandava a chiamare il nonno perché Enrico si chiamava perché venisse a casa che era ora mica che perdesse un po' la trebisogna uno era là dove c'è la biblioteca che le finestre guardavano fuori nel giardino c'è le piante una giù nel sui negabasin e giocavano o a briscole o alla mura a indovinare le dita no la mura giocavano con le dita cioè io e te per modo di dire dovevo indovinare le dita che giocavi perché se io dicevo otto otto così no e io mettevo giù cinque e lei metteva giù tre e avevo indovinato era un numero ma se invece io metto giù cinque dico otto ma dopo lei mette giù cinque anche lei allora cioè dovevo indovinare quello che giocavo io e lei dovevo indovinare la quantità delle dita quella lì e lei disseva in l'amore e lei diceva in l'amore e lei è sostanzioso con l'amore e lei sentiva a gridare fin su al belvedere d'estate siccome aprirono le finestre e lei diceva in l'amore e lei diceva in l'amore e lei diceva in l'amore